L'ambasciatore del Brasile verrà a Lucca a visitare la casa di Carlo del Prete, dove abita la sua nipote e questo accadrà probabilmente entro il 18 agosto di quest'anno. Il 18 agosto infatti del 1928 Carlo del Prete muore a Rio de Janeiro in seguito ad una infezione ad una gamba e soprattutto dopo aver trasvolato da Roma a Rio de Janeiro, se ne sono ricordati a Rio de Janeiro meno a Lucca. L'Istituto Storico Lucchese sta raccogliendo una grossa mole di materiali, documenti e anche cemeli sulla figura di un lucchese che tutti conoscono, quantomeno per il fatto che c'è un famoso istituto tecnico che porta il suo nome e questo potrebbe anche servire a realizzare in futuro un museo sull'aeronatica orientato sulle grandi imprese di voli trans-oceanici laddove l'Italia nel primo novecento aveva delle posizioni di punta. I forti legami tra Brasile e Italia sono stati recentemente riconfermati nel settantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e molti ricordano infatti che giusto in Gaffagnana truppe brasiliane affiancare alle formazioni partigiane nella guerra di liberazione. Pochi però sanno che in occasione dei funerali che avendono nella chiesa di San Francesco a Lucca, funerali di Carlo delle Prete, i brasiliani inviarono a questi funerali dei fiori di ceramica perché i fiori veri non potevano supportare il lungo viaggio. Ecco, questo è un segnale di una fratellanza ormai secolare. Grazie a tutti.